Cervasoni, un punto che suona un po' di delusione per voi, nel senso che Mr. Madonna ha detto che potevamo provare a vincerla questa partita. La sensazione vista dal campo? La sensazione vista dal campo, soprattutto nel primo tempo, è stata quella che alla prima occasione loro noi abbiamo preso gol e noi abbiamo dovuto farne parecchie per pareggiare la partita. E questo è un rammarico più grande. Poi nel secondo tempo, secondo me, è stata una partita un po' più aperta, dove ci sono state occasioni per noi e anche per loro. E quindi, come ha detto il mister, sicuramente si poteva portare a casa i tre punti, però guardando com'è il calcio, queste partite rischiano anche a volte di perderle, perché poi alla fine qualche occasione l'ha venuta a loro, come sul salvataggio sulla linea o il palo che hanno preso su punizione. Compiacenza è arrivato a Frosinone non per speculare sul risultato. Voi siete una squadra che, se prova ad attaccare, forse la vince o la pareggia. Se prova a difendersi, molto spesso va in sofferenza. L'idea era proprio quella di aggredire un Frosinone visibilmente scosso dal punto di vista psicologico? Sì, noi siamo venuti qui a fare la nostra partita senza tatticismi, nel senso di aspettare l'avversario. O cercare di difenderci nella propria metacampo e ripartire in contropiedi. Penso che le caratteristiche di questa squadra siano quelle di far gioco fin dal primo minuto e in qualsiasi campo. Oggi c'è venuto, c'è mancato solamente il gol, però dobbiamo continuare su questa strada, sperando soprattutto di fare i punti in casa che sono quelli fondamentali. Solitamente al termine di una gara tra calciatori si parla e si pensa anche all'avversario. Voi avete un obiettivo focalizzato che è quello della salvezza, con un mercato che peraltro rischia a tutti di far perdere dei pezzi. La sostanza, quando siete usciti dal campo, vi siete guardati e avete detto, una che ci arriva dietro l'abbiamo trovata? Ma speriamo non solo più di una. Però voglio dire, il Frosinone... Sì, fondamentale quest'oggi era non perdere. E quindi alla fine dei 90 minuti, quando è portato a casa un pareggio per come è andata la partita, c'è un po' di rammarico, però nello stesso tempo dice almeno uno è dietro. Quello è poco ma sicuro. Quindi la convinzione di aver trovato un avversario con cui sicuramente ve la potete battere, quindi gli altri possono essere in qualche modo alla portata. In bocca al lupo per il campionato del Piacenza. Grazie Crepe. Grazie a tutti.